La dorata di Mistretta dall'estrazione alla creazione artistica. Questo è il nome del progetto portato avanti dall'Associazione Culturale Sicilia Antica di Mistretta che ha coinvolto anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo Tommaso Aversa. Tra l'attività è iniziata con la visita guidata alla cava di estrazione pietra andando a far visita all'impresa Sepam. Qui i ragazzi accompagnati dai docenti e dai responsabili locali di Sicilia Antica sono entrati in contatto diretto con l'ambiente naturale della pietra e hanno appreso tutte le nozioni che riguardano le qualità intrinseche ed estrinseche della materia, la quarza arenita di Mistretta. Infatti tale pietra possiede caratteristiche di elevato pregio dovuto alla composizione mineralogica caratterizzata da una forte presenza di quarzo. I responsabili della ditta si sono improvvisati anche guide ed hanno illustrato agli attenti studenti il modo di estrarre la pietra, la sua lavorazione e soprattutto come viene modellata, scolpita per diventare un oggetto utile per la casa, un monumento o un'opera d'arte. Insomma, grazie a questa visita, gli studenti hanno capito il valore e la bellezza della pietra mastratina. Infatti, lo scopo dell'Associazione Sicilia Antica è stato quello di coinvolgere i ragazzi alla scoperta del nostro patrimonio culturale, inteso come bene comune da salvaguardare, tutelare e valorizzare, per meglio tramandarlo ai posteri. La giornata è continuata poi nel pomeriggio presso Palazzo Mastro Giovanni Tasca con la presentazione del piccolo documentario Viaggio nella storia di Mistretta, prodotto e realizzato e diretto da Antonio Barragato, direttore del gruppo Inarratura di Cefalù. In collaborazione con Santina Rondine, presidente della locale associazione di Sicilia Antica, è intervenuta alla serata anche Miriam Cerami, che ha partecipato alla realizzazione del video. Ospede d'onore, il soprintendente del mare, il professore Sebastiano Tusa. L'evento è stato organizzato e coordinato da Sicilia Antica di Mistretta e il gruppo Inarratura di Cefalù. Presente all'evento anche il segretario locale di Sicilia Antica, il dottore archeologo Vittorio Alfieri.